Information Consulting è uno dei dieci Platinum Partner di Hewlett Packard Enterprise in Italia. Siamo partner da più di 30 anni, abbiamo sempre creduto in una forte partnership con il vendor, per cui siamo sempre stati monomarca. È una scelta che ci ha creato delle difficoltà negli anni passati, ma oggi ci risulta premiante. Abbiamo una forte propensione alla specializzazione, siamo un gruppo di 25 persone, di cui 5 persone dedicate esclusivamente alla prevendita. Queste persone vengono costantemente aggiornate con dei corsi diretti presso i laboratori di HP per mantenere attive e valide tutte le certificazioni e le conoscenze delle soluzioni e dei prodotti di HP. Il progetto HP Innovation Lab ha premiato una delle nostre stelte strategiche che avevamo effettuato nel corso degli anni. Abbiamo sempre creduto di portare la tecnologia presso i nostri clienti. Diventava sempre difficile portare i clienti dai capologhi del Triveneto verso Milano, per cui abbiamo deciso già a tempo dietro di investire direttamente nelle nostre filiali con degli Innovation Center. Questi Innovation Center oggi sono diventati Innovation Lab. Ne abbiamo tre attivi, di cui uno ha già inaugurato e adesso stiamo inaugurando gli altri due. Questa è un'altra scelta premiante, un'altra scelta che conferma che lavorare e collaborare continuamente con HP non può essere che premiante.